E' un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca. Un'epoca di 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 un'epoca. Un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca. Un'epoca di 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 un'epoca di un'epoca di un'epoca. 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 Un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca di un'epoca. Structural integrity compromised. Un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di 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 un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. Un'epoca di un'epoca di un'epoca di un'epoca. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. come è stato un' banda. Sottotitoli mi ha messo qui adorando. Oltre al VALOR non mi aiuta dare come come le vogliono. Sottotitoli? Chi sei? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti e il che i 7iliti è�a di sottozionate. Il pianeta è stato un grande piuttosto del governo. Il marco, questo arzlato divino, è stato construito da mani humani. Non è impossibile, è un mondo alieno, i minorsi si stavano l'uomo! Dopo l'uomo è stato plantato qui un po' cento anni fa. Anche Kain non ho capito su questo. Ci sono trovato il primo marco in un crato di terra. Questo. Questo è vero. Alieno. C'è sufficiente per imparare unitologia. La nostra gente ha studiato e regolato questo marco rosso. Ma hanno bisogno di un'unico per testarlo. EGIS-7. Hai visto il risultato. C'è qualcosa di nascostante. Mi pensavo che i vecchi apporti sono solo hysteria. Ma ho visto... quello che ho visto. Ci hanno scoperto tutto il sistema, scoperto i ricordi, fino a la CEC. Ci sono stati scoperto. Ci sono stati scoperto di EGIS-7. Ci sono stati scoperto con il team di ricerca. Ci sono stati scoperto. Ci sono stati scoperto da inserita Google. C'è sicuro! Ci sono stati scoperto. Ci sono stati scoperto di EGIS-7... Ci sono stati scioperto un po' inizio. C'è stata stata scoperto capto. Ci sono stati scoperto di chiare il pezzo. Ci sono stati scoperti. Il tuo experimento va a costruire! Daniels! Era tutto per nulla Isaac, vieni, è Nicole Where are you? In the flight control room Please, you have to come up here now There's still a way out for us, but we don't have much time Danger! Containment fields approaching maximum capacity To be continued To be continued To be continued There you are Thank God you're here The ship's coming apart I saw what you've been through Your investigation Mercer What happened with us We don't have to talk about it We don't have to talk about it I need you to know I'm sorry about everything It's okay Isaac You know I forgive you I love you Well, could, but... You still hope You can recall the shuttle and remote pilot from here Bring back the marker and we can return it to Aegis 7 We can make us walk again I just want to make things right Then let's do it together Then let's do it together Recalling shuttle USG-09 Prepping remote docking procedures Damn it Isaac! You don't know what you're doing! I know! I'm finally doing the smart thing! Are you fucking kidding me? Shit! Warning! Escape pod launch detected from shuttle USG-09 Escape pod... Damn! We lost her It doesn't matter She can't escape her fate But who can? Here it comes Isaac? I know The ship room is finished If we get on that shuttle There's no going back Leave no regrets Go I'll reprogram the shuttle with our flight path to Aegis 7 And join you on board Don't leave me waiting To be able to go To be able to take 2 hours left To be able to take whatever a load for us Which is ready? To be able to take a load for us To be able to take a load for us And go for the ability to get a load that goes up To be able to take 2 hours Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, Isaac. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, con te posso capire nulla cosa. One more ride together, then. It's... hungry. It'll try to eat us alive. But we have the marker. We'll put things back the way they were. We will be whole again. We'll be in the...